An Agrigento al Circolo Culturale Empedocleo si è svolto un incontro per la programmazione della settima stagione del Teatro da Camera 2023-2024 con interventi di Giuseppe Adamo, presidente del Circolo Empedocleo, il vicepresidente Antonio Garufo e il direttore del Pirandello Stable Festival Mario Gazziano, il servizio di Maria Grazia Castellana. Al Circolo Empedocleo di Agrigento si è realizzato un meeting incontro finalizzato alla programmazione della settima stagione del Teatro da Camera 2023-2024. La linea delle rappresentazioni conferma la scelta del Teatro d'autore. Il presidente del Circolo Culturale Empedocleo, Giuseppe Adamo, il vicepresidente Garufo e Mario Gazziano, direttore del Pirandello Stable Festival, hanno ribadito la volontà della scelta di forte intrattenimento culturale, con i grandi autori, da Moravia con la Ciociara, ancora a Pirandello con la ripresa di Vestire gli Inudi, a Francesco Lanza, a Molière con l'Avaro. La stagione avrà inizio venerdì 24 novembre alle ore 18.15, sempre nella saletta Teatro dell'Empedocleo. La conferenza stampa è convocata giorno 30 ottobre prossimo alle ore 10.30.